sabato 14 dicembre domenica 15 torna alla seconda edizione la palapecci marina di pescara un viaggio tra sapori e tradizioni abruzzesi bontà gusti e sapori d'abruzzo degustazioni enogastronomiche musica spettacolo e show cooking e per i più piccoli il villaggio di babbo natale e tanta animazione ovviamente ingresso gratuito il 14 e 15 dicembre al palapecci al porto turistico di pescara ovviamente vi aspettiamo